... Sembrava una giornata come le altre e invece per una coppia di anziani un'uscita domenicale si è trasformata in un dramma in pochi istanti. Maria Serfilippi di 77 anni e suo marito Sesto Beciani, ottantenne, sono ancora in prognosi riservata dopo il violento frontale avvenuto poco dopo le 17 lungo la statale adriatica 16 a Marotta di Mondolfo. L'uomo che è ricoverato nel reparto di rianimazione del San Salvatore di Pesaro rimane in pericolo di vita e i medici stanno valutandosi sottoporlo ad un intervento chirurgico di natura ortopedica. Sono ancora stazionari invece le condizioni della moglie che dopo l'incidente è stata trasportata dall'eliambulanza al Torrette di Ancone in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate. Come si legge in un bollettino medico della direzione generale, nelle prossime ore verranno eseguiti altri esami diagnostici radiografici in vista di ulteriori trattamenti chirurgici. I coniugi originari di Monteporzio ma residenti a Marotta stavano procedendo in direzione sud a bordo di una Fiat Punto quando all'altezza del supermercato Eurospin si sono scontrati frontalmente con una lancia Y guidata da Alessandra Becci, 43 anni di Senigallia, rimasta ferita nel violento impatto. La donna che è ricoverata all'ospedale di Pesaro e non al Santa Croce di Fanno come era stato scritto in un primo momento ha riportato un trauma facciale e potrebbe guarire in una quarantina di giorni. Non è stato semplice capire la dinamica dello schianto che tuttora è al vaglio della polizia stradale di Fanno. I veicoli infatti erano entrambi rivolti nella stessa direzione e la Punto, a causa dello scontro, è stata scaraventata contro un'altra auto in sosta. Una delle ipotesi potrebbe essere un sorpasso azzardato. L'incidente ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni per deviare il traffico sulle arterie secondarie. Sono intervenuti i vigili urbani di Mondolfo e i carabinieri di Marotta. Per le operazioni di soccorso invece, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Fanno che ha estratto il pensionato dalle lamiere dell'abitacolo e ha messo in sicurezza la zona.